Sì, perché nonostante la sosta dei maggiori campionati mondiali, qualcuno ha giocato fortunatamente per noi e quindi possiamo iniziare dalla Serie B e da Sansone, prima protagonista di due errori clamorosi. Il primo è questo, che veramente si mette le mani ai capelli e ha ragione perché è smarcato, commette un errore piuttosto grave. Anche qui nel cuore dell'aria con una deviazione non c'entra la porta, allora si ne fa come un assist perché qui batte il calcio di punizione per il Novara che viene insaccato a fare gol, quindi assist per Gianluca Sansone per il Novara contro l'Ascoli. Anche Breghi qui, protagonista per il Perugia di un assist, la gara contro l'Avellino finisce 3-0 e Breghi è centrocampista decisivo nel Perugia questa stagione, gol adesso per Francesco Della Rocca, gara contro la Salernitana, secondo gol stagionale per Della Rocca che anticipa in girata centro aria massimo coda, ottimo tempismo per il centrocampista e gol. Arriviamo poi alla perla di aria di oggi, questo è Franco Brienza, sblocca così la gara contro l'Aentella, finì a 1-1, secondo gol consecutivo per Brienza, bollito, vero? Bollitissimo, non serviva assolutamente niente. E poi proprio ha un tiro debole che non va da nessuna parte. Scendiamo in Lega Pro, questo è Luca Tedeschi, centrale del Cosenza, che guida la rimonta dei suoi contro il Fondi, questa è la rovesciata di Alessandro Accapello per l'Olbi, anche in questo caso Vittorio Reimonta e poi sempre in Lega Pro, Moscardelli gioca nell'Arezzo, i primi gol, due gol per lui contro la Cremonese, prima di testa l'abbiamo visto e poi con un pallonetto a scavancare il portiere per l'attaccante dell'Arezzo, la gara poi va sul 3-2 e sul 3-2 a questa occasione lui, da solo in contropiede, riesce a sbagliarla, purtroppo l'Arezzo perde però due gol per Moscardelli. Si gioca lo stesso in Uruguay, gioca il Boston River di Federico Rodriguez che qui si guadagna il calcio di rigore, lo guadagna, si presenta sul dischetto e lo trasforma di potenza, settimo gol in sei giornate per Federico Rodriguez, il Boston River è quarto in classifica in Uruguay, sulle esultanze dobbiamo ancora lavorarsi, diciamo che non sono proprio dei fenomeni, però sono le promosse, quindi un'ottima stagione. Perfetto, era molto.